Ciao a tutti, qui Piero San Giorgio, sono un attore svizzero di libri di sopravvivenza e in questi libri parlo ovviamente di collasso economico e di come ci si prepara e di come si fa. Il mio ultimo libro in francese, che non è ancora uscito in italiano, parla di rischi nucleari, radiologici, biologici e chimici. Ovviamente nella parte biologica ci sono i virus. E sono un mese e mezzo, siamo oggi l'11 febbraio 2020 e sono quasi due mesi che sto seguendo l'evoluzione del virus in Cina e ovviamente nell'ultimo mese, da quando i media ne parlano, l'ho seguito da vicino, dal punto di vista della sopravvivenza, dal punto di vista del prepper, dal punto di vista di chi si prepara a questi problemi. e nelle ultime quattro settimane l'ho guardato con attenzione perché è importante osservare come si sviluppa questo tipo di malattie sapendo che io vivo principalmente a Ginevra, in Svizzera, e qui è ovviamente la sede dell'organizzazione mondiale della sanità, che sono alla punta dell'allarme su questo tipo di nuove malattie e specialmente l'ospedale di Ginevra è uno degli ospedali nel mondo specializzati per rintracciare, studiare e trattare le malattie emergenti, come le chiamano, cioè le malattie nuove, di cui fa questo virus. Per me questo virus non era preoccupante, perché ovviamente è lontano in Cina, dal mio punto di vista, che vivo in Svizzera, è un virus che si capisce, cioè il coronavirus, ne ho parlato nel mio ultimo libro, sono dei virus abbastanza cattivi, però di solito non sono molto contagiosi, e ovviamente con la quarantina che il governo cinese ha messo in atto intorno alle città non c'era molto rischio a quel momento, tre settimane fa, ma anche due settimane fa, che questo virus arrivasse anche da noi. Però il prepper cosa fa? Osserva, cerca le informazioni, non tanto per capire dove e perché viene questo virus, ci sono tante teorie oggi in giro, però non è importante, l'importante sono le conseguenze e come ci si prepara. E il prepper si prepara per tre livelli. Il primo livello è il livello della malattia per sé. Cosa succede? Come si fa per non essere contagiato? Dunque, questo è facile, ci si lava le mani, non si va nelle zone dove c'è tanta gente, si mette protezioni per respirare. Non adesso, ma più tardi, quando ovviamente ci sono contaminati intorno a voi. E tre settimane fa pensavo che questo virus era un virus tipico di coronavirus, cioè che l'incubazione fosse di 4-5 giorni. Il tasso di mortalità sembrava essere di 3-4% e l'incognita era qual è il tasso di progressione, il RO, qual è la possibilità del virus di passare da una persona a quante persone ne passa. E' interessante quando questo numero è inferiore a 1, cioè quando una persona è ammalata lo passa a meno di una persona. Questo non si poteva sapere perché sia all'inizio la fase di scoperta del virus e una fase dove ovviamente il virus è in progressione molto alta e dunque bisogna aspettare un po' di tempo per capire dove va. Il prepper poi ovviamente si prepara a cosa deve fare se è contaminato, cioè se è infettato dal virus, cosa si fa? Si prepara da anni a avere un sistema immunitario potente e capace di risolvere, di abbattere questo virus da solo, cioè avere un sistema immunitario il più potente possibile, il più efficace possibile e ciò significa esercizi fisici, ciò significa nutrizione buona, per esempio siamo a febbraio e il periodo degli aranci di Sicilia tra l'altro. Cioè a parte lo scherzo dell'arancio, che non è l'arancio che ti salva dal virus, l'idea è che mangi locale, mangi di stagione, mangi prodotti buoni e perché viviamo in un mondo dove il cibo non è più buono come una volta, dobbiamo anche avere supplementi di vitamine e avevo mai fatto una video purtroppo in francese dove avevo messo la lista di qualche prodotto naturale che è un naturopata, un di questi medici naturali, di medicina naturale mi aveva consigliato, mi ha fatto una lista di piante, di oli essenziali, di diverse cose che si può prendere in più. Per me la medicina moderna è sana e buona, però la medicina tradizionale, cioè usare piante e capire come funziona il corpo, vanno insieme, dunque per me non sono opposizione, non è da prendere solo l'una o solo l'altra, tutte e due vanno bene, cioè se hai un'infezione, chiaramente l'antibiotico ti aiuta. Nel caso del virus ci vuole o un antivirale o essere capace di eliminarlo per se stesso. Ovviamente il prepper cosa anche fa? Si prepara ai problemi secondari del virus. Il problema secondario del virus non è solo se lo becchi te o di non beccarlo da altre persone. Il problema è che cosa succede nella società se una parte importante della popolazione comincia ad essere ammalata. I problemi sono diversi. Il primo è che gli ospedali diventano pieni di gente ammalata, non possono più curare né chi è ammalato, né chi è ammalato di altre malattie. Cioè se l'ospedale è col personale ospitaliere che è ammalato anche pure lui, già non ce la fa più dopo un po' a gestire la quantità di persone ammalate. Ma poi c'è chi è ammalato di malattie tra virgolette normale, cioè chi ha una crisi cardica, chi ha un infarto, chi si rompe una gamba, arriva all'ospedale e aggiunge al suo problema il fatto che si può far contaminare da tutta la gente che sta lì dicendo aiutatemi, sto male, c'ho una polmonite, perché questo virus ti porta anche i sistemi, è un virus che tocca il sistema rispettatorio e dunque la polmonite. La polmonite è una delle conseguenze che sembrano essere correnti su questo tipo di virus. E dunque la gente ammalata all'ospedale in più si prende il virus e comunque dopo un po' l'ospedale non ce la fa più a gestire, le quantità non sa più gestire chi, e poi succede chi non ci sa più gestire i morti, non ci sa più gestire il resto. E poi c'è un altro elemento collaterale, diciamo secondario, e che qui si tratta del bloccaggio della Cina e che dunque dopo un certo punto la Cina che è la fabbrica del mondo, se non fabbrica più niente, specie medicinali, pezzi di ricambio, come funziona il mondo? Il mondo non funziona più e dunque ci possono restare dei collassi, dei mini collassi che poi possono diventare grandi, di diverse catene di approvvigionamento, questo lo spiego nel mio primo libro Sopravvivere al collasso economico, e dunque a questo punto ti porta a problemi molto più importanti sul modo di vivere di ogni giorno. Il problema da aggiungere è ovviamente quello del panico. Se la gente è in panico, ne abbiamo viste delle immagini in Cina, non si sa mai, e poi il problema è che non si può sapere se quello che vediamo nella Cina è vero o se è manipolato. Non abbiamo nessuna informazione di vera fiducia. Lo avremmo adesso che questo virus sta arrivando ovviamente in diversi altri paesi e dunque qui avremo i dati molto più, speriamo, giusti. Ma il panico è grave perché il panico può portare a comportamenti ovviamente non costruttivi e non utili. Cioè gente che va nelle farmacie, che ruba gli antibiotici, che ruba gli antivirali, poi che non sa neanche usarli. E gente che va dal dottore, che gli rompe la faccia per dire no, mi devi dare, me lo devi dare, sto medic... C'ho il bambino ammalato, dammi starò. Però non funziona così. E questo panico della gente può essere violento, può avere problematiche che si aggiungono a tutto il resto. Si è visto, sempre in Cina, gente che attacca violentamente dei dottori per ottenere medicinali, anche se magari non ci sono. E poi il problema si è, secondo me, peggiorato da qualche giorno. E vi spiego perché. Il primo accenno a questo è che i dati cinesi mostrano che la malattia si è fermata. Ora questo non è possibile. Non con un contagio così forte, non con questo tipo di malattia. E soprattutto sapendo che ci sono oltre 250 milioni di persone in Cina che sono sotto quarantena, dunque vuol dire che i dati non si trasmettono più. Può anche darsi che la Cina non sia più capace, che ha fatto un lavoro straordinario, di testare milioni di persone per sapere se sono ammalate o no. Però dopo un po', cioè qui non è che si testa la gente così. Qui vuol dire prisa di sangue, vuol dire analisi. Dopo un po' non c'è più la capacità di farlo per milioni e milioni di persone. Questo non è magia. È scienza, è tecnologia e ci vogliono i kit di test. E questi non sono disponibili per così tanta gente. Dunque non si sa più qual è la propagazione della malattia. E poi con la gente che continua a viaggiare per aereo questa malattia ovviamente si trasfererà attraverso il mondo. E per darvi un'altra informazione che secondo me è molto strana è che non ci sono contagi né in Africa né in America del Sud. Ora i cinesi lavorano in quei paesi lì. E anche tanto. E dunque, secondo me, perché in quei paesi non c'è la capacità di fare i test. E dunque è un buco nero in queste regioni dove la gente sarà infettata e lo è già. E sta già viaggiando in Europa, in America, dal resto del mondo perché si viaggia per lavoro. Immaginate negli aeroporti come Nairobi, Istanbul, Mexico City, Sao Paolo, Rio de Janeiro. Basta un cinese, c'è una persona che viene dalla Cina che è infettata, ha infettato metà dell'aereo, la gente nell'aereo poi va chi in Francia, chi in Inghilterra, chi a Miami, chi a New York, chi in Europa, chi a Milano, eccetera eccetera. Qui si starà e poi si è scoperto che il periodo di incubazione è abbastanza lungo, sembra essere di 20 giorni e sembra che durante questi 20 giorni si sia almeno in parte già contagiosi. Dunque qui vuol dire che questa cosa è partita da tutte le parti e si vede oggi che ci sono casi che crescono in Germania, in Francia, anche in Italia un pochino, però non è tanto la quantità perché so che la gente mi dice sì ma tanto la gente muore dell'influenza normale molto di più. Sì ma non è la questione della quantità è la questione della progressione perché se la progressione raddoppia ogni due giorni e dopo un mese l'influenza annuale non è più niente a paragono di questo e dunque bisogna stare molto attenti alla crescita della progressione del contagio della malattia. Allora praticamente cosa succede? Che se viene casino se si bloccano le catene qui si ritorna allo scenario del preppere del sopravvivenista o di chi vuole proteggere se stesso e della sua famiglia è che te devi rimanere in casa e devi avere cibo acqua magari medicinali se hai bisogno di medicinali ma al minimo indispensabile per vivere due, tre, quattro sei settimane otto settimane dipende tranquillo e da solo uscendo il meno possibile se ti danno l'autorizzazione di uscire e dunque io vi consiglio di avere comunque tre, quattro settimane di cibo ed acqua e di medicine se siete una persona che si cura per dire se avete bisogno di insulina se siete malati non so che sia e dunque di avere questo a casa e di poi preparare l'isolamento cioè se voi o se qualcuno nella vostra famiglia si ammala di questo virus se siete uno tra tanti andare all'ospedale sarà difficile dunque fatemi dire dottore a casa vostra però avete organizzato a casa vostra per avere magari una stanza dove potete lasciare le persone ammalate e andate a vederle con le maschere lavandosi bene le mani magari con delle tute non costa caro mascherine FP3 FP2 M95 questi tipi di maschere vanno bene poi uno si deve lavare le mani magari mettere i guanti se va a trattare una persona ammalata e si tiene la distanza la quarantena in fondo come si faceva una volta come lo fanno proprio adesso i cinesi e anche i giapponesi hanno messo quarantene su una nave un piroscafo di lusso in cui 3000 persone sono dentro in cui già 10% 300 persone sono già contaminate ammalate dunque sarà molto interessante vedere come segue a lungo termine può darsi che non succede niente di grave può darsi che è una malattia che viene che uccida 0,5% della popolazione e che poi passi però può anche darsi che è una malattia che rimane che ritorna ogni anno a ciclo e diventa un fatto nuovo come l'influenza che è una malattia che ci tocca ogni anno e che può essere più o meno grave più o meno micidiale però può anche essere peggio cioè essere peggio che crea questo e può anche distruggere la globalizzazione nel senso che abbiamo messo tutto in Cina e ora la Cina si blocca tutte le fabbriche di penicillina dell'America del Nord sono in Cina tutte cioè non fabbrichi gli antibiotici altrove che nella Cina e se la Cina si blocca non ci sono più gli antibiotici e senza antibiotici chi tratta le infezioni dei batteri che sono molto più pericolose molto più prevalenti che quelle virali che i batteri sono dappertutto ed è facile prenderli e dunque quanta gente ha bisogno di antibiotici ogni giorno quanti ce ne sono in riserva se la Cina non ce ne manda più cioè se le fabbriche in Cina non si chiudono e se non mandano più questi antibiotici questi medicinali leggevo che 100% del Tylenol cioè non l'ibuprofene l'altra credo l'altra molecola per il mal di testa e l'antidolore 100% del Tylenol americano è fabbricato in Cina questa è l'assurdità del sistema globalizzato che ovviamente per ragioni di profitto di massimizzare il profitto concentra i rischi e questo è un errore gravissimo perché si dovrebbe pagare un po' più caro mantenere le fabbriche vicino ai consumatori vicino nei diversi paesi dove la gente le consuma e così avere un po' più di ridondanza un po' più di riserva anche se costa un po' più caro e anche se non si mazimalizza il profitto magari ovviamente è difficile farlo come una legge ma questa è la lezione che magari il sistema globalizzato ultraliberale non funziona in questi casi e nei casi di pandemia come sta succedendo qui siamo sull'orlo di un baratro non dico che stiamo cadendo dentro magari questa crisi non diventa così grave come lo penso io sono ancora abbastanza ottimista penso che al massimo andiamo per un per cento di mortalità e bisogna ammetterlo sono piuttosto sembrano persone anziane e bisogna aggiungere che in Cina le persone hanno un sistema immunitario meno meno forte che quello che c'è ancora nell'occidente per adesso sta abbassandosi per via della crisi e della povertà che cresce da noi comunque state attenti io vi auguro di prepararvi fate i piani necessari per avere un po' di cibo in riserva a casa vostra acqua un po' di sì un po' di cibo olio un po' di un po' di medicine magari qualche litro di benzina cioè due tra Jerry Can di 20 litri li tenete da parte se la crisi passa le userete se non va avete un po' di medicina non vi volete trovare con i figli ammalati e dovete andare all'ospedale non c'è la benzina per la macchina cioè tenetevi tenetevi i 20-40 litri in bidoni di benzina per dire per esempio nei prossimi 3-4 mesi tanto tiene la stessa cosa per il cibo eccetera tutto questo li spiego nei miei libri però volevo farvi una video in italiano per dirvi non andate in panico però preparatevi prendete le cose con serietà perché la situazione può diventare seria non c'è da drammatizzare per adesso non andate in panico non andate urlando al supermercato dicendo oddio sta finendo il mondo no no non è questo con calma però poco per volta è il momento di avere 3-4 settimane di cibo in casa un po' di benzina un po' di medicinali se avete bisogno di medicinali particolari andate a vedere il dottore e gli dite guarda vorrei avere una scorta di 3-4 mesi del medicinale a casa perché ho paura che succeda questo e questo o quell'altro il dottore di solito dovrebbe darvelo e se non ve lo dà andate a vedere un dottore che ve lo dà è facile trovarlo o un farmacista fatevi amico o un farmacista ecco dunque questi sono i miei consigli e guarda leggete i miei libri che sono utili per questo tipo di situazione e ci sentiamo e devo farvi più video in italiano a presto ciao